In Sicilia aumentano i nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva, gli ingressi in terapia intensiva e i deceduti. Numeri solo con il segno più, dunque, quelli che vengono fuori dal report relativo all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella nostra regione, diffuso dall'ufficio Statistica del Comune sulla base dei dati del Dipartimento della Protezione Civile. Secondo il report, i nuovi positivi in Sicilia sono 11.508, valore più alto del 66% rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrato un numero del 36,2%. Numeri sempre più preoccupanti, a questo punto drammatici, quelli che l'epidemia di coronavirus fa registrare in Sicilia. Che la situazione sull'isola sia ormai allarmante, lo certificano i bollettini che giornalmente riportano dati da Record, una media di oltre 1.500 nuovi casi ogni 24 ore, ricoveri in aumento e ospedale al collasso, tasso di positività alle stelle. L'emergenza Covid-19 non è lontana dal tagliare il traguardo del suo primo anno, ma la Sicilia affronta adesso la fase più difficile e le cose non sembrano destinate a migliorare, almeno nel breve periodo. Né cosciente anche l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, ci aspettiamo ancora per qualche settimana una crescita del contagio e quindi una fase di tensione per le strutture ospedaliere e territoriali e per le aree di emergenza. I numeri dunque, quelli che non possono mentire e danno un'istentanea di ciò che accade sull'isola in questo momento, il riepilogo settimanale non lascia scampo. Il dato che più di tutti salta all'occhio è quello che riguarda il numero di casi per 100.000 abitanti degli ultimi sette giorni, parametro determinante per far scattare la zona rossa automatica nelle regioni. La Sicilia è passata da 140 casi per 100.000 abitanti nella settimana, 28 dicembre e 3 gennaio, a 232 in quella appena trascorsa, la fatidica soglia dei 250 casi che significa lockdown e praticamente ad un passo. I ricoverati sono 1.473, di cui 208 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 152 unità. Solo la Lombardia fa peggio, ma nei sette giorni precedenti aveva avuto più dimissioni che ingressi, al contrario della Sicilia. Il numero dei guariti è cresciuto di 5.359 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sui positivi è pari al 59%, in leggera diminuzione. Il numero dei deceduti è aumentato di 234 unità rispetto alla settimana precedente. Non solo. Sviscerando le cifre si scopre che 4 delle prime 5 province con la maggior crescita di contagi settimanali sono siciliane, guida Siracusa, poi Messina, Trapani e Caltanisset.